Segnale News Il ragazzo aveva anche alcune munizioni calibro 12 da caccia. Per lui è scattato una denuncia per porto abusivo di arma e procurato allarme. Ricordiamo che un episodio simile già si era verificato lo scorso fine gennaio. Sempre per quanto riguarda la cronaca ha ingerito involontariamente soda caustica purissima ed ora si trova a fare i conti con serie ostioni nella gola e nello stomaco. Vittima la cliente di un bar della capitale che aveva chiesto un bicchiere d'acqua. La barista non si accorta di avere preso. Non si accorta evidentemente la bottiglia sbagliata. Ora la barista rischia una incriminazione per lesioni colpose gravi. Sempre per quanto riguarda la cronaca prostituzione minorile, detenzione e produzione di materiale pedopornografico. Questa è l'ipotesi di reato che hanno portato all'emissione di sette ordinanze di custodia cautelare a Brescia al termine di un'indagine della locale Procura della Repubblica. Arresti domiciliari per sei delle sette persone per il settimo obbligo di dimora. Tutto è collegato all'arresto di un uomo siero positivo che deve rispondere dell'accusa di aver avuto rapporti sessuali non protetti con minori. Sempre per quanto riguarda la cronaca cambiamo comunque decisamente tenore. La classica storia di un rapporto a tre con l'infedeltà a fare da sottofondo. Lui, lei e l'altro, tutto accade a Venezia, protagonista una coppia di fidanzati. Lui viene allertato di un possibile tradimento della ragazza, arriva all'improvviso a casa ma non trova nessuno, trova solamente la sua ragazza. Poco dopo però i vicini chiamano il centralino della questura perché dicono di sentire invocazioni di aiuto e alla fine si scopre che sul cornicione del palazzo, in corrispondenza della finestra dell'abitazione dei due fidanzati, c'era un uomo che penzolava quasi nudo. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per aiutarlo a scendere. E concludiamo con una notizia certamente curiosa. Questa è una storia, la storia di due gemelle straordinariamente identiche che per esserlo ancora di più di quanto aveva fatto già la natura hanno pensato bene di ricorrere alla chirurgia estetica per essere sempre più identiche. Fin qui nulla di particolarmente eclatante. La curiosità è che le due sorelle hanno deciso di dividere anche lo stesso uomo e hanno anche deciso che quell'uomo dovrà essere il papà dei loro figli. Desiderano infatti da quell'uomo una gravidanza in contemporanea. Era questa l'ultima notizia, per il momento noi ci risentiamo più tardi. Grazie a tutti.